Io non posso dimenticare che anche se siamo in piena campagna elettorale ho la regione sulle spalle e quindi oggi a Monaco innanzitutto per accompagnare un'impresa significativa del Friuli Venezia Giulia come la Pilosio che sta producendo un sacco di reddito e di posti di lavoro e in più l'incontro con l'ADA che è un po' il touring club della Baviera per fare incoming turistico, insomma faccio un po' l'ambasciatore della nostra bellissima terra, del nostro bellissimo Friuli Venezia Giulia.